Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 in direzione Bologna, l'area di servizio di Montepulciano Est ha il ristorante chiuso per lavori. In A11 l'area di servizio di Peritola Nord in direzione Pisa è sprovvista di GPL. In A12 segnalati i lavori in direzione Genova tra la barriera di Rosignano e Pisa Centro fino alle 22 di stasera. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla regionale 69 di Valdarno al chilometro 25 restringimento di carreggiata nel comune di Figline incisa Valdarno. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!